Il fiume noto come Vaillant scorre attraverso le valli dell'Erto e Casso in provincia di Belluno prima di spociare nel Piave davanti a Longarone e Castellavazzo. Tra il 1957 e il 1963 fu realizzata una massiccia diga a doppio arco, alta 60 metri per 261 punte e lunga alla sommità 190 metri, che modificò drasticamente la morfologia della valle del torrente Vaillant. L'idea di sbarrare ed arginare il torrente avrebbe potuto creare un lago del volume di circa 170 milioni di metri cubi. Questo lago era destinato a raccogliere l'acqua di tutti i bacini artificiali del cadore per poi trasportarla alla centrale di Soversene. Poiché all'epoca non vi era alcun obbligo di legge per valutare la stabilità dei pendidi e futuri invasi, le perizie in quest'area erano carenti. Solo dopo una frana avvenuta il 22 marzo nel vicino bacino idroelettrico di Pontesei, e quando il progetto era quasi terminato, si è deciso di condurre ulteriori ricerche geologiche. L'incarico fu affidato, tra gli altri, al geologo austriaco Leopold Müller, che si avvalse dell'aiuto di due geologi italiani, Edoardo Semenza, figlio del progettista della Diga, e Franco Giudici. Nella loro relazione finale, presentata nel giugno 1960, affermavano che esisteva un'antica frana sul versante settentrionale del Monte Toc che si affacciava sull'invaso e che avrebbe potuto spostarsi nuovamente dopo la creazione del lago. Questa frana era già scivolata in epoca preistorica per sbarrare la valle. I test del serbatoio iniziarono nel settembre 1959, dopo che la diga fu terminata. Una grande fessura a forma di M lunga oltre due chilometri e larga a circa un metro apparve per la prima volta sul pendio nel marzo 1960. L'onda anomala era alta circa 10 metri e fu causata da una frana che si staccò nel novembre dello stesso anno e conteneva circa 700.000 metri cubi di detriti. I movimenti rallentarono immediatamente fino quasi a fermarsi dopo questo incidente e fu ordinato un allargamento dell'invaso controllato. I movimenti della frana si sono riattivati a seguito di altre prove di invaso che sono state condotte negli anni successivi. La decisione di procedere alla svasatura fu presa il 26 settembre 1963, ma la misura non ebbe l'esito sperato. E la massa continuò a muoversi più rapidamente fino a raggiungere i 30 centimetri nelle prime ore del mattino del giorno 9 ottobre 1963. La frana si staccò quel giorno alle 22 e 39. Circa 270 milioni di metri cubi di roccia sono scivolati a una velocità compresa tra 70 e 90 chilometri orari e l'intera massa ha raggiunto il lago in circa 20 secondi. Un'onda di circa 50 milioni di metri cubi è stata creata dalla collisione con l'acqua. Quest'onda si è divisa in più parti. Una delle quali ha lambito le case di Casso, un'altra ha distrutto porzioni di Erto e Casso, e una terza ha scavalcato la diga e si è tuffata nella ristretta valle sottostante. Circa 25 milioni di metri cubi di acqua e detriti si sono riversati su Longarone nel giro di poco minuti, portando con sé quasi tutti i suoi abitanti. Insieme a Longarone, i paesi di Pirago, Maè, Villanova e Rivalta, Frasein, Col delle Spesse, Il Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana, San Martino, Faè e la parte bassa dell'Erto. La ferrovia Belluno-Calalzo è stata divelta per un tratto di 2 chilometri, e la strada statale 51 è stata distrutta per un tratto di 4 chilometri a Longarone, insieme a 895 abitazioni e 205 unità produttive. La quantità di terra arabile è stata dimezzata e il 30% del bestiame è morto. Almeno 986 milioni di euro sono stati spesi dallo Stato tra il 1964 e il 1993. Ci furono 1917 persone che morirono e 400 di loro non furono mai ritrovate. Lo Stato, l'Enel e la Montedison, i tre enti corresponsabili del disastro, hanno firmato l'accordo definitivo il 27 luglio del 2000. Ciascuno paga un terzo dei 900 miliardi di lire tra oneri e danni. Il costo complessivo dell'indennizzo riconosciuto ai comuni danneggiati, 99 miliardi di lire, è ripartito equamente. La Montedison fa il conguaglio pagando allo Stato e all'Enel 210 miliardi. Quello che avvenne fu un occultamento della non idoneità dei versanti del bacino, che avevano caratteristiche morfologiche inadatte a contenere un serbatoio d'acqua. In realtà, l'infiltrazione delle acque del lago artificiale creato con la diga ha modificato il delicato equilibrio della montagna, rendendo più instabili i pendii, già deboli e segnati da secoli di frane. La vicenda del processo Vaillant si chiude così 37 anni dopo il disastro e 29 anni dopo l'inizio del processo civile. La regione Veneto ha stanziato un milione di euro per il 2013 per commemorare i 50 anni della catastrofe e garantire la messa in sicurezza e il ripristino delle gallerie, della strada del Colomber che corrono sotto la montagna. Nell'ambito della fusione del 2014 tra gli ex comuni di Longarone e Castellavazzo, il finanziamento è stato riassegnato dalla Giunta regionale per la realizzazione del nuovo polo sanitario di Longarone. La diga, oggi, è completamente asciutta. Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale. Grazie.